Come siamo arrivati fin qui? L'essere umano è affamato dal desiderio di scoprire, di inventare, di costruire. Il futuro dipende dalla nostra capacità di portare avanti queste idee. Una responsabilità che ricadrà sulle spalle delle nuove generazioni. Ma ogni nuova scoperta comporta dei rischi, dei sacrifici e delle conseguenze. Preparati per quello che arriverà. Cosa arriverà? Le risposte. Oggi parliamo di supereroi, perché certi personaggi un attore se li sente proprio addosso. È il caso di Henry Cavill, che da quando ha indossato il costume è diventato il supereroe più forte di tutti. L'attore ha dichiarato di voler interpretare Superman per molto, molto tempo. Intanto lo vedremo l'anno prossimo in Batman vs Superman Dawn of Justice, atteso sequel di Zack Snyder. Pare che potremo vedere il primo trailer nei cinema il prossimo 6 febbraio, prima di Jupiter, il destino dell'universo, dei fratelli Wachowski. Costar di Cavill è ovviamente Ben Affleck, nei panni di Batman. Voi cosa ne pensate? Vi piace Henry Cavill come Superman? Scrivete cosa ne pensate e io vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!